Al Mugello ha fatto registrare il quinto piazzamento ma ha guadagnato i punti preziosi per rafforzare la seconda posizione del campionato italiano velocità Super Sport in condominio con Roberto Tamburini, tallonando il primo Ferruccio Lamborghini. Per Cristiano Migliorati il prossimo impegno è fissato per il 4 luglio a Misano. È una tappa fondamentale quella di Misano perché si deciderà un pochino chi sarà ancora in lotta per il campionato fino alla fine. Io parto con l'obiettivo di vincere l'appuntamento perché credo e spero si correrà sull'asciutto, Misano prima di luglio in teoria non dovrebbe piovere. Il tracciato è favorevole al mio stile di guida, è favorevole alla nostra moto e quindi l'obiettivo è vincere quella, poi guardare la classifica a due gare della fine, in una a Mugello e poi vedere come andrà. A quasi 42 anni di cui 25 vissuti in sella ad una due ruote in pista, Cristiano Migliorati detta ancora il ritmo in Super Sport con il sostegno del team con il quale ha trovato la migliore delle intese. Terza stagione con Puccetti, ottava consecutiva con Kawasaki, quindi ormai il primo fedeltà me lo prendo io per quanto riguarda la Verdona. La moto è competitiva, dobbiamo metterlo perché altrimenti non ci troveremmo in questa posizione. Io sono molto determinato come sempre, motivatissimo e quindi abbiamo un pacchetto tutto sommato performante, dobbiamo soltanto sfruttarlo al meglio e sperare di non trovare la pioggia. E se team e moto sono fondamentali, importante è anche il tifo del pubblico ed ecco che arriva un invito speciale. Io invito tutti i bresciani e non bresciani a Misano il 4 luglio per il quinto appuntamento del CIV. Prometto di partire per vincere questa tappa perché ci tengo e ho bisogno di farlo. Se sarete a supportarmi sarà forse più facile per me provare a vincere. Just for one day